il napoli vince in campo contro il nizza preliminari di champions 2 a 0 gol di mertens e di giorginio tutto sommato è andata bene possiamo utilizzare questa affermazione perché è un napoli che poteva segnare di più pensate un gol ogni cinque occasioni o napoli un po sprecone soprattutto nel finale poteva avere più cattiveria e dare il colpo di grazia ai francesi così non è stato tutto sommato ribadisco è un risultato positivo anche perché poi ci sarà la gara di ritorno di questo turno preliminare di champions league in costa azzurra dove il napoli sicuramente avrà modo di fare bene complice anche la doppia espulsione sul finale dei francesi procediamo però e andiamo verso il campionato perché sabato sera ci sarà la sfida alle 20 e 45 contro il verona ed è un napoli che non può permettersi passi falsi e non può permettersi di iniziare il campionato con una sconfitta quindi secondo me gli uomini di maurizio sarri ce la metteranno tutta in campo e riusciranno a vincere contro il verona questo è il mio pronostico speriamo bene per il napoli e vedremo quello che accadrà in campo Grazie a tutti